Un grande segnale di ripartenza anche questo, devo essere sincera, mancava un po' quella che è l'attività culturale che caratterizza Treviso e le varie manifestazioni, sempre di grande interesse e anche di grande richiamo. Quindi anche la nuova edizione di questo festival è un segno importante di ritorno alla normalità, proprio concreta. E poi soprattutto è intrigante il tema, è importante perché siete stati in grado di essere sul pezzo ancora una volta, nonostante le restrizioni e anche sicuramente la fatica di mettere assieme una manifestazione in tempi di Covid.